Le tre rose di Eva 4, due colpi di scena col ritorno di Aurora Taviani Le tre rose di Eva 4, anticipazioni. . Torna finalmente domani Le tre rose di Eva, una delle fiction più amate dai telespettatori. Protagonisti della serie sono Roberto Farnesi e Anna Safroncic, nei panni rispettivamente di Alessandro Monforte e Aurora Taviani. Quest'ultima era uscita di scena nel corso della terza stagione, ma a grande richiesta è tornata per la gioia dei fedeli fan. . Abbiamo lasciato Alessandro pronto a ricominciare dopo aver provato il dolore della morte di Aurora, il grande amore della sua vita. . In realtà, però, la donna è ancora viva ed è pronta a tornare nella sua città d'origine rompendo gli equilibri che si erano ormai stabiliti. . Tante cose cambieranno a causa della sua ricomparsa, ma soprattutto Aurora non troverà immutata la sua vecchia vita. . La prima puntata vi aspetta domani in prima serata su Canale 5, mentre la seconda andrà in onda giovedì 9 novembre, è ancora da decidere il giorno ufficiale della messa in onda. . Alessandro Monforte ha un nuovo amore. . . Nonostante le varie difficoltà vissute Alessandro e Aurora sono sempre riusciti a tornare insieme e a superare qualsiasi ostacolo potesse rovinare il loro amore. . Proprio quando i due si erano ricongiunti e avevano formato una famiglia con la piccola Eva, la loro felicità viene bruscamente interrotta dalla scomparsa di Aurora. . Tutti i suoi affetti più cari hanno sempre creduto che Aurora fosse morta, ma a due anni da quella grande perdita la donna torna nella vita di Alessandro e delle sue sorelle. . 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